Sanremo 2018, Lodovica Comello al fianco di Baglioni? La sua risposta Lodovica Comello al festival di Sanremo 2018 con Claudio Baglioni? La dichiarazione Lodovica Comello, ospite ieri sera a Chi ha incastrato Peter Pan, ha rivelato il suo pensiero sulla sua partecipazione al festival di Sanremo 2018 con Claudio Baglioni Lattrice di Violetta ha infatti ricevuto da una bambina del programma questa domanda, Andrai di nuovo a Sanremo? E la Comello ha quindi risposto in questo modo, se mi vorranno molto volentieri Mi sono divertita tanto laltra volta. Lodovica non ha specificato se si riferisse al fatto che vorrebbe partecipare in qualità di valletta o di concorrente, ma quel che è certo è che la cantante del cielo non mi basta potrebbe accettare leventuale proposta di Baglioni Negli ultimi tempi si sono infatti rincorsi gossip riguardo allinteresse del nuovo direttore artistico di Sanremo nei confronti di Lodovica Comello D'altronde non potrebbe essere diversamente, la cantante può infatti contare su un vero e proprio esercito di fanacaniti, ed inoltre non sarebbe la prima volta per lei salire sul palco dell'Ariston L'attrice ha infatti gareggiato l'anno scorso all'interno del famoso teatro sanremese con la canzone di successo già menzionata qui sopra Claudio Baglioni vuole Lodovica Comello a Sanremo? Cosa ne pensa l'attrice di Violetta? Insomma, dalle parole dette da Lodovica Comello trasparirebbe la sua volontà di accettare il ruolo di valletta a Sanremo 2018, qualora arrivasse la proposta di Claudio Baglioni Inoltre, come specificato ieri durante il programma di Paolo Bonolis, la Comello, che ha iniziato la sua gloriosa carriera in qualità di attrice, avrebbe scoperto un nuovo amore, quello della musica E quale migliore esperienza ci potrebbe essere in ambito musicale che calcare il palco dell'Ariston in qualità di valletta dopo aver partecipato anche come concorrente? Lodovica ha risposto inoltre anche a delle domande impertinenti riguardo la sua sfera privata, affermando che attualmente è innamoratissima del suo Thomas Goldschmidt, conosciuto proprio sul set di Violetta Nel dettaglio, la Comello ha raccontato che Thomas ha la capacità di analizzare con mente pacata tutti i suoi problemi, d'altronde è un produttore televisivo e porta la sua abilità professionale anche nella vita di tutti i giorni L'attrice ha infine concluso dichiarando che Goldschmidt è un meraviglioso risolutore di problemi, anche se ha un piccolo difetto, è disordinantissimo, al contrario di Lodovica che si è detta essere invece un'ossessiva compulsiva in materia di organizzazione Grazie a tutti